Nella quinta domenica di Pasqua, che celebreremo questa domenica, noi ascoltiamo il testo meraviglioso che al capitolo tredicesimo del Vangelo di Giovanni ci fa ascoltare il comandamento nuovo, l'amore fraterno che il Signore Gesù ha portato su questa terra. Nella prima lettura noi vediamo che cosa? Che c'è qualcosa a cui Paolo e Barnabas tengono tantissimo. Quando tornano all'Istra, Iconio e Antiochia, esortano a restare saldi nella fede perché per entrare nel Regno di Dio si passa attraverso molte tribolazioni e a quel punto, proprio per aiutare le comunità a restare salde, affidano le chiese ad alcuni anziani, in greco presbiteri, quello che poi diventeranno i nostri sacerdoti, che sono quelli che si prendono cura delle comunità cristiane. Quindi arrivano finalmente a Antiochia, dove nella loro fraternità da cui erano partiti, raccontano tutte le meraviglie che Dio ha fatto e di come Dio ha aperto la porta ai pagani perché siano anch'essi nella vita nuova, nella vita della fede. Ecco, tutto questo parla di qualcosa che è la cura dell'unità della Chiesa e la gioia della Chiesa, che però è una bellezza minacciata, è una bellezza fragile, che passa per tribolazioni, perché è la strada del Regno di Dio. Ecco, quando noi ascoltiamo il Vangelo, noi dobbiamo cominciare dalla citazione di un personaggio, dalla citazione di Giuda. Quando Giuda fu uscito, così inizia il Vangelo, Gesù dice, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Perché è stato glorificato ora? Perché è comparsa ormai la missione di Giuda, che ha il compito di far vedere come Gesù reagisce al male dell'uomo. Giuda ha una funzione nella rivelazione del volto di Dio. Giuda rappresenta tutto il nostro male che una volta che arriva addosso a Cristo lo fa splendere secondo quello che è il suo vero volto, un volto di misericordia. E questa è la gloria di Dio. E lo glorificherà subito, dice qui il padre al figlio, perché di fatto comparirà la gloria della croce che da Giovanni viene raccontata come un'avventura luminosa e tragica, ma nello stesso tempo gloriosa e nella sua ultima destinazione che è la resurrezione e l'arrivo al cielo, al padre di Cristo. Bene, allora qual è l'unica consegna che fa Gesù il comandamento fondamentale, l'indicazione, la parola che Lui lascia a loro? Perché c'è Giuda comunque e c'è una gloria che passa per la tribolazione, come ha detto la prima lettura, per arrivare al regno di Dio. Ecco, l'unica consegna, l'unica, se vogliamo, strada, strategia per arrivare al regno dei cieli e sopravvivere a tutto il male che verrà addosso ai cristiani e che viene addosso ad ogni uomo che si rende libero rispetto a questo mondo e che vive secondo il regno di Dio, è il comandamento nuovo. Il comandamento nuovo è nuovo, dice Sant'Agostino, perché è nuovo l'uomo che gli obbedisce, perché è secondo l'alleanza nuova, è secondo il vino nuovo, è secondo la via nuova, quella identità nuova che ci viene dal battesimo. Ecco, e questo comandamento che riassume tutto, che dà la chiave di tutto, è che, dice, vi amiate gli uni gli altri. Qui, logicamente, abbiamo qualcosa di grandioso e che azzera una quantità di perdite di tempo. È la cosa che veramente conta. Noi siamo molto spesso efficientisti e innamorati dei nostri progetti, anche ecclesiali, anche spirituali, per cui dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi e tutto ciò che ne consegue. Ma ciò che veramente conta è che ci amiamo gli uni gli altri. Ma detto questo, purtroppo non abbiamo detto quasi niente, perché quel che diciamo è cosa dobbiamo fare. Ma quando parliamo di amore, oggi più che mai è importante sottolinearlo, noi forse diamo questa parola come un vagone vuoto e ognuno ci mette dentro quel che gli pare. Cos'è l'amore? C'è gente che parla di amore in una maniera assolutamente inaccettabile. C'è gente che confonde l'amore con la pulsione istintiva. C'è chi confonde l'amore con un attaccamento che sa molto più di paura che di amore e cose di questo genere. Tutto questo non ci è dato perché noi lo riempiamo del contenuto che ci pare a noi. No, non si è fermato qui Cristo. Dice che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri ed è qui che si vede che siete miei discepoli. Terminerà il d'Angelo. Allora, l'amore ha un come, non è un cosa. È molto più importante il come del cosa perché gli atti di amore possono essere i più disparati. Passano dalle attese e da certe sante inattività. Certe volte per amare una persona bisogna dargli il tempo di sbagliare, capire, tornare in se stesso e stare lì, fermi, senza intervenire. Certe volte per amare bisogna intervenire fermamente e senza esitare. Come si discerne tutto questo? Perché ci possono essere due persone che vogliono amare la stessa identica persona in maniera totalmente diversa e contraddittoria. Chi dei due ha ragione? Noi possiamo credere al buon cuore di entrambi, ma noi non crediamo al nostro cuore per se stesso. Noi crediamo a come Cristo ci ha amati. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Qui il parametro non è un sentimento generico di amore, ma la storia concreta che ci ha salvato, l'amore oggettivo che Cristo ci ha usato, come ci ha amato Cristo. Cristo non ci ha amato in una maniera qualunque, non ci ha amato in una maniera sentimentale o astratta o cose simili. Ci ha amato nel suo corpo salendo in croce per noi, per amore nostro e per noi risorgendo, accettando il nostro male e senza fare nessuno sconto al riguardo di quel che doveva essere detto al nostro cuore. Anche le cose più amare ce le ha dette senza risparmiarcene, senza ipocrisia, un azimo di verità, come dice San Paolo, ma nello stesso tempo una generosità totale della sua vita. Si ama solo dando la propria vita, ma non dandola in maniera disordinata, dandola secondo la volontà del Padre. Gesù ci ha amato compiendo il disegno del Padre, non sua sponte, non a partire da sé. Ecco, come si fa ad amare, come si fa ad amarci gli uni gli altri contemplando come ci ama Cristo, altrimenti non abbiamo un punto di partenza, abbiamo una confusione. Se non partiamo dalla percezione di come Cristo ama noi, se non siamo memori di tutto quello che è la pazienza, la serietà, anche la correzione che per amor nostro Cristo ha esercitato nei nostri confronti, noi andiamo avanti a casaccio e non si può. L'amore è la cosa più importante della nostra vita. Ci prendiamo lezioni per imparare lingue, discipline fisiche, tecniche di tutti i tipi e invece per amare andiamo improvvisando, andiamo così, come ci viene? No, amare si impara. La fede è un dono, la speranza è un dono, la carità è un dono, l'amore di cui parliamo non è l'amore umano to core, ma è un amore redento, è nello stesso tempo umano e divino, è un amore che nella nostra umanità, nei nostri sentimenti, però entra in sinergia con lo Spirito Santo. È Cristo che ci ha saputo amare, se lo sapevamo fare da soli e bastava dircelo, noi lo facevamo da soli, non c'era bisogno che lui salisse in croce per amore nostro. Dobbiamo smetterla col fare di questo testo un moralismo, ovvero sia dire dobbiamo amarci, no, noi siamo chiamati ad amarci come Cristo ci ha amato molto spesso, dietro le nostre balbuzie agapiche, cioè il nostro amare in maniera intermittente, c'è la perdita del contatto con l'amore che Cristo ci porta, se noi siamo gratitudine, se siamo eco, costante, di come Cristo ha amato noi e sappiamo come fare, abbiamo il parametro, abbiamo il come, questo come è rivelato dalla croce di Cristo. grazie a tutti. Grazie a tutti.